Sì assolutamente, per noi era veramente importante tornare alla vittoria e l'abbiamo fatto contro una squadra forte in un campo difficilissimo e siamo contenti perché comunque noi lavoriamo sempre giorno per giorno per cercare di vincere le partite. Era un periodo che non ci stava girando benissimo, diciamo che abbiamo raccolto un po' i frutti del lavoro, dobbiamo continuare così. Ma sì, diciamo che abbiamo approcciato la partita bene, al primo tempo loro comunque giocando in casa spingevano un po' di più, noi siamo stati bravi a contenerli e al secondo tempo a fargli male. Assolutamente sì, sono d'accordo, è molto equilibrato e ogni partita contro chiunque è da giocare al massimo perché come hai detto tu si può vincere e perdere con chiunque.